Sono l'ispettore di polizia Mayer, avrei alcune domande da farle. Benvenuti in questa gabbia di mattina. Cavallo mangia regina in F5. Ieri sera ero un po' triste, non avevo tanta voglia di uscire. In cielo c'è la luna, ma ci sono anche le regole che la oscurano. Mi dice niente, il nome Hans Schneider. Grazie per la visione! Grazie a tutti!